Siamo a una partita contro i campioni d'Italia, contro quelli che hanno fatto vedere nella scorsa stagione il miglior basket vincendo tutto, una squadra che ha mantenuto più o meno l'ossatura e lo stile di gioco dell'anno scorso con qualche cambiamento di giocatori importanti, quindi non hanno cambiato tanto nello stile quanto hanno cambiato un pochino nella loro costruzione di squadra. Per noi è un test difficile, stimolante e impegnativo perché abbiamo vinto una partita domenica scorsa con un po' di pressione addosso perché volevamo assolutamente vincere per cambiare un po' questo trend davanti al nostro pubblico e adesso ci aspetta una conferma dove bisogna fare un'impresa per poter vincere. Quindi diciamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per questa gara sapendo che ci sono 4-5 temi tecnici, tattici molto molto importanti su cui stiamo lavorando e su cui credo che se ci lavoriamo bene, se facciamo le nostre cose con grande dedizione ed energia possiamo perlomeno condurre sotto un punto di vista di ritmo la nostra partita che è la cosa più importante di tutti da fare contro Sassari. La squadra sta così, ecco, non bene non male, nel senso che abbiamo avuto, oggi rimarrà a riposo ancora Pini per il solito problema che noi gestiamo con allenamenti del riposo e terapie. Si è fermato per un paio di giorni Alex Hacker però non aveva riscontrato nulla di particolarmente invasivo come infortunio e quindi diciamo che da domani speriamo di fare due allenamenti completi per poter arrivare alla nostra gara al meglio. Sì, io credo che ci siano vari aspetti difensivi molto importanti, ecco, quindi questa è una delle cose che ci possono aiutare, però non solo questa, ecco, quindi dovremmo cercare di essere bravi in senso così generico su alcuni principi proprio del gioco difensivo e poi qualche accorgimento come lo è stato probabilmente, anzi sicuramente contro Trento da fare anche contro di loro, però magari adeguandosi anche un po' a qualche diversità che aveva Trento rispetto a quello che è a Sassari. No, credo che essendo una squadra di massimo livello credo che ho bisogno veramente all'apporto di tutti, non possiamo permetterci nessuno che venga meno a questa gara. Poi è vero che anche in questa partita secondo me ci sono due o tre punti, due o tre giocatori, due o tre situazioni che sono un po' la chiave della gara e che sono un po' più importante degli altri. Io dopo la partita di Trento ho avuto, parliamo anche proprio dei tifosi normali che per la strada ti fermano, piuttosto che qualche addetto al lavoro sulla prestazione non positiva di Cervi, però io credo che ci sono partite partite come avevo spiegato, quello che lui poteva fare meglio, ma a mio avviso non era lui giocatore determinante perché non aveva queste caratteristiche per sfruttare qualche debolezza o qualche punto di forza di Trento. Qui con Sassari c'è anche qui un'idea abbastanza precisa su che cosa fare a livello tecnico-tattico. Io spero di essere bravo a trasferirlo sia a livello di concetto sia a livello sul campo alla squadra e questa è l'unica cosa un po' che mi, il fatto di non allenarsi tutti insieme è l'unica cosa un po' che mi dà fastidio perché mi manca sempre un pezzo per poter fare un lavoro globale, diciamo così. Quindi io devo essere bravo sotto questi aspetti qui e deve essere poi brava la squadra nel farlo sempre con una percentuale di errore minima, quindi avere più consistenza nell'arco dei 40 minuti per poter venire fuori in una partita io credo di un livello molto alto come una squadra come quella di Sassari. beh io intanto credo che mi vede anche particolarmente interessato perché io sono dieci anni che allevo nazionale under 20 e quindi è chiaro che sembra una sorpresa in verità era un po' nell'area c'è questa voce che circolava da tempi. Io credo che Simone Peneggiani abbia dimostrato in tanti anni di essere l'allenatore che in Italia ha vinto più di tutti e di avere una qualità alta. Ha portato questa squadra al preolimpico, è una squadra che ha avuto sicuramente grande ardore, grandi attributi e grande voglia di riscattare la maglia azzurra. Poi quando si perde in quella maniera una partita sono sempre gli episodi che contano. Adesso è arrivato un altro allenatore, non si può altro che dire, e non lo dico per piageria, lo dico perché credo che sia un dato di fatto, è arrivato l'allenatore più bravo di tutti noi. Ecco, nel nostro panorama italiano Ettore Messina secondo me è nettamente l'allenatore più bravo di tutti, lo dice la sua carriera, lo dice quello che ha fatto, lo dice anche la scuola di cui ho fatto parte tra l'altro quando c'erano questi formatori, super formatori, nel poter dare una linea tecnica agli allenatori nei corsi. Lui c'è anche un po' quello che lui ci ha passato, siamo un po' tutti i figli di Ettore, almeno quella mia generazione, si guardava sempre a lui, a quello che faceva lui, a quello che ha portato soprattutto dal punto di vista difensivo, dal punto di vista della chiarezza nel chiarire che cosa fosse e cosa bisognava fare. Io credo che, almeno per quanto riguarda me, io sono personalmente molto legato nella mia crescita personale a Fabrizio Frates, di cui ho lavorato, in verità io sono stato il suo grande playmaker della squadra categoria lievi, nel 1970, nel 1984, lui era il mio allenatore, però poi abbiamo vinto la Coppa Corace, l'assistente nel 1990 a Madrid, quindi a livello tecnico, diciamo, vengo fuori da Fabrizio, ma Ettore era l'esempio da seguire per tutti noi. E invece sotto l'aspetto gestionale, io credo che l'altro personaggio della palacanestro italiana che ha segnato questa seconda epoca sia stato, ed è tuttora, Carlo Recalcati, qui, credo che non ci sia un miglior gestore del gruppo che Carlo, ecco, oltre a un livello tecnico. Quindi riprende questa avventura a Ettore, gli aspetta un compito non facile, però credo anche che lui, solo lui possa avere la personalità di tenere, scusate la ripetizione, queste fortissime personalità che giocano tra l'altro all'oceano, come può essere Bargnani, Bellinelli, vabbè, da Tom adesso gioca da un'altra parte, però Hackett, cioè io credo che Ettore sia al di sopra di tutti, ecco, io credo che nessuno si possa apostrofare o dire qualche cosa a rispondere ad un allenatore che sia lui, ecco, a tutti gli altri, magari va a Sagripanti, e diceva, senti, fai, vai a casa, vai, dicevano, lascia perdere, quando uno te lo dice a Tremessina, ti giù il cappello e dici, yes sir, e batti i tacchi, ecco, quindi io credo che magari lo abbia poco, e credo anche che in realtà sia sempre stato nel cuore di Petrucci, del Presidente, ecco, perché lui l'ha messo a 33 anni come regatore della Nazionale, ha sempre avuto come suo punto di riferimento, e credo che sia la massima espressione tecnica e la massima espressione di personalità della nostra paracanestra italiana, a meno per noi allenatori, e onestamente poi spero vivamente sia da allenatore del settore, allenatore della Serie A, ma soprattutto anche da tifoso, da italiano, spero ovviamente di centrare, che la Nazionale possa centrare questo obiettivo, perché fare le Olimpiadi per tutto il movimento ci deve dare una cosa. Poi dopo, voi sapete, abbiamo già un po' parlato, io ho tutta una mia idea sul settore italiano, quella nazionale, è il traino portante di tutti, poi forse bisognerebbe avere il coraggio di incominciare a fare i settori giovani in un'altra maniera, a tirare su giovani, ad aumentare il numero, a buttarle in campo, ai 5 c'è allenamento, quindi la tagliamo qui, se no vado avanti per tre ore, che è una cosa che mi appassiona molto ed è una cosa a cui io credo molto.